Oltre sei mesi di permanenza a Milano per Casa Abruzzo, all'interno dell'Espò a Fiorichiari, in centro a Brera, la più grande vetrina mondiale per le aziende abruzzesi del settore alimentare e delle eccellenze del nostro territorio. Un successo culminato con la chiusura lo scorso 29 ottobre 2015 davanti al questore di Milano, il dottor Luigi Savina, abruzzese doc, Alfredo Paglione, gallerista e mecenate, amico personale dei più grandi pittori e dal consigliere delegato della regione Abruzzo, Camillo D'Alessandro. Alla cerimonia di chiusura è stato consegnato anche il premio all'abruzzese sotto la madonnina, andato quest'anno al colonnello dei carabinieri Alessandro De Angeli, scomandante provinciale di Varese, molisano, ma con radici in Abruzzo, al quale il presidente dell'associazione Angelo D'Appennino ha consegnato il prestigioso riconoscimento. Anche il calcio ha avuto un suo spazio all'interno della serata, con l'inaugurazione del club milanese dedicato a Lanciano, una squadra abruzzese che milita nel campionato di Serie B. La serata è stata aglietata anche dalla presenza di numerose band abruzzesi, gruppi folcloristici e dal giovane percussionista Andrea Spada, già più volte ospite di trasmissioni su Rai 1 ed eventi di respiro nazionali, con il suo Kaisadram, catturando l'attenzione anche di molti visitatori stranieri, incuriositi sia dalle forme che dal suono dello strumento. Infine, le meravigliose ricette e i piatti dello chef abruzzese Davide terapino.